Bernardo Mennini è stato confermato alla guida di Forza Italia in provincia di Aghezzo, è stato un bel momento congressuale quello di sabato? Sì, è stato un momento vero in qualche modo perché fare un congresso di questi tempi è già complicato perché diciamo che nessuno li fa. Noi si è deciso di farli anche per vedere un attimino di rimettere in moto tutta quella rete ampia che abbiamo di dirigenti, di amministratori, di consiglieri. Devo dire che la partecipazione è stata notevolissima, quindi vuol dire che c'è bisogno anche di un impianto democratico dove si decide chi è la classe dirigente e questa classe dirigente gioca tutta la partita verso le prossime amministrative e verso i regionali. Quindi è stato positivo, io ringrazio chiaramente tutti gli amici che hanno voluto tributarmi questo grande sostegno, io farò di tutto per meritare, questa è l'unica cosa che sento di dover dire. Ecco, ormai ci siamo perché ci saranno le elezioni appunto sia in Toscana che ad Arezzo, come ci arriva questo centrodestra? Unito, unito perché è uscito dal congresso una partecipazione vera di tutte le altre forze politiche del centrodestra perché sono venuti la Lega, Fratelli d'Italia, sono venuti praticamente anche la lista civica di Chinelli, lo stesso Alessandro Chinelli che è il nostro candidato sindaco, noi siamo convinti di questa sua capacità anche di aver fatto bene e di riproporsi al prossimo mandato. Lui ha detto a disposizione sia appunto per fare il sinaco ma anche eventualmente per fare il presidente della regione. Noi guardiamo chiaramente alla questione amministrativa principalmente, la vicenda della scelta regionale non è del tavolo a retino, pertanto è inutile che ne parli. Sul quadro a retino mi baso sul fatto che il centrodestra compattamente sostiene Chinelli e noi per primi sosteniamo ben volentieri Chinelli perché ha ben lavorato e giudichiamo che debba continuare questo lavoro per altri cinque anni. Quelle frizioni di cui si era letto nei giornali in estate tutto superato? Quelle frizioni sono state anche un qualcosa di incomprensione. Mi pare che col congresso non si è parlato d'altro che di autentica unità, tutte le forze che sono venute hanno parlato di unità del centrodestra che è il valore a cui Forza Italia si isprida e che vuole fare e valutare in maniera operativa per arrivare alla campagna elettorale tutti assieme con Chinelli candidato. Forza Italia svolge un ruolo di cerniera che è quello che vuole continuare a svolgere, cioè la logica è vincere, vincere proponendo soggetti che hanno capacità di intercettare l'elettorato. Il nostro obiettivo non è mettere un candidato per dire mettiamo un candidato, ma è mettere un candidato perché è vincente, così come non abbiamo sostenuto fin da subito Chinelli l'altra volta e tutt'oggi. Chiaramente facciamo questo, quindi Forza Italia svolge un grande ruolo e a livello amministrativo secondo me può dare ancora di più perché la lista sicuramente sarà competitiva, composta da donne e uomini che corrono, cercano le preferenze, cercano argomenti, saremo competitivi nel quadratino.